Enrico Postachini, conosco Enrico Postachini, lo stimo molto, è una persona equilibrata. Per quanto mi riguarda, sosterrò la sua candidatura, non so se la domanda è soddisfacente, la risposta. Sull'aeroporto abbiamo bisogno di gente equilibrata, entriamo in una fase molto delicata per il rafforzamento dell'aeroporto. Io credo che al di là del fatto che la maggioranza sia della Camera di Commercio sia importante che il Comune converga. Quando si trova una persona con le caratteristiche di Enrico, tutto è più facilitato.